Stefano, come è organizzata la giornata tipo dell'Inexer Summer Camp? Allora, sì, c'è il ritrovo prima delle 9, alle 9 cominciano le attività, al mattino facciamo due attività sportive, dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, dalle 11 mandiamo i bambini in piscina, o si fa gioco libero o pallamano in piscina, fine della piscina andiamo a fare la doccia per prepararci per il pranzo che c'è alle 12.30, dopo pranzo un'oretta di gioco libero dove i bambini hanno lo spazio sopra, dove c'è il campo da tennis e il prato adecente al centro, alle 2, il martedì e il giovedì ci sono i compiti, dalle 2 alle 3, e poi si riprendono con le attività sportive dalle 3 alle 4, dalle 4 alle 5, alle 5 doccia prima di andare a casa, merenda e poi saluto con i genitori. Insomma un ottimo vado per conciliare sport, divertimento e anche qualche compito delle vacanze che non fa mai male. Bravissimo, qualche compito, tanto sport, tanto gioco per mettere insieme questo gruppo di bambini che vedo si diverte e piace. Laura nel corso della settimana in quali sport sono stati coinvolti i ragazzi? Allora i ragazzi hanno fatto vari sport, di cui pallavolo, tennis, poi ho fatto le bocce, il ping pong con un'istruttrice che veniva da fuori, anche il judo con un istruttore che veniva da fuori, poi hanno fatto giochi vari con la palla, giochi di corsa, atletica, rugby e poi ci diretteremo con altri sport come il frisbee, la piscina come oggi. Insomma c'è l'imbarazzo della scelta per un'estate a tutto sport? Sì E oltre che un modo per imparare tanti sport nuovi, avvicinarsi a discipline che magari potranno essere approfondite nel corso dell'autunno, è anche un modo per socializzare, i ragazzi stanno facendo amicizia? Sì, moltissimo, non essendo un gruppo troppo numeroso, sono circa una trentina di ragazzi, stanno socializzando molto, si divertono, stanno nascendo anche nuove amicizie che spero porteranno avanti nel corso dell'inverno anche e durante alcuni pomeriggi, martedì e giovedì fanno anche i compiti, quindi è anche un modo per stare insieme e imparare anche qualcosa magari. Insomma un campo estivo riuscito perfettamente? Sì, per adesso sì, siamo molto soddisfatti, ragazzi sono molto contenti. Allora ragazzi come sta andando questo Inaxor Summer Camp? Bene Vi state divertendo? Sì Qual è lo sport che ti è piaciuto di più? Pim pong E a te? I giochi con la palla A te? Calcio Bene, e qual è l'istruttore o l'istruttrice più bravo? Laura o Stefano? Laura Tutti e due Insomma però vince Laura, hai punti ma vince Laura